Il 2017 è stato dichiarato dall'ONU Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo e la Regione ha dato il via all'Anno del Turismo Sostenibile in Toscana, siglando una lettera di intenti con Federalberg e con Travelability presentata a Firenze nel corso di un convegno. Due gli obiettivi, far conoscere le attività turistiche dedicate alle persone anziane, disabili o bisognose di attenzioni speciali ed organizzare entro giugno a Bruxelles un'iniziativa congiunta per dare impulso alle politiche avviate in Toscana. Anche il nuovo testo unico sul turismo regionale punta a scongiurare discriminazioni in termini di trattamento, prezzi e accessibilità a fronte di un costante sviluppo del settore su scala mondiale. La sostenibilità è un tema molto ampio, molto spesso è evocato, credo rispetto ad alcune criticità ancora da affrontare e da risolvere. Noi dobbiamo interrogarci come essere non solo evocatori di scenari ma come essere concretamente sollecitatori, sostenitori, promotori, accompagnatori di un modello di sviluppo che ci convinca e che si sposi alle opportunità e ai valori che la Toscana offre. In Toscana il turismo rappresenta l'8% del prodotto interno lordo e occupa il 10% dei lavoratori con 14.000 strutture che accolgono ogni anno 45 milioni di persone. Grazie. 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 Grazie.